In che modo sono correlati la salute dentale e le malattie cardiache? Sei a rischio di malattie cardiache. A volte è difficile dirlo, ma la ricerca che inizia negli anni 2000 suggerisce di vedere il tuo dentista per scoprirlo. Diversi studi condotti da cardiologi e da parodontologi, specialisti in malattie gengivali, suggeriscono ora che ci sono molte connessioni tra salute dentale e malattie cardiache. Le persone con malattie gengivali, con denti falsi o con denti deteriorati hanno molte più probabilità di avere malattie cardiache. Questi sono studi correlativi, non studi di causa ed effetto, ma ulteriori ricerche in questo campo potrebbero suggerire che mantenere la bocca sana è una delle chiavi per avere un cuore sano. Uno studio sulla salute dentale e le malattie cardiache collega l'alto rischio di malattie gengivali nei pazienti che richiedono trapianti di cuore. In uno studio australiano, il 77% di un gruppo di oltre 80 pazienti che necessitava di trapianto cardiaco presentava una malattia parodontale. Questo è stato confrontato con un gruppo che non ha richiesto il trapianto con cuori sani in cui solo il 13% presentava una malattia parodontale. Questo studio potrebbe essere leggermente imperfetto poiché solo 80 persone che necessitavano di trapianti sono state confrontate con un gruppo molto più vasto di persone che non le richiedevano, oltre 900 persone. Tuttavia, in combinazione con altri studi, questi risultati suggeriscono che la salute orale e le malattie cardiache possono essere correlate. Quello che molti studi simili rivelano è che le persone che hanno subito attacchi cardiaci, che hanno bisogno di trapianti o che hanno bisogno di un intervento chirurgico al cuore hanno molte più probabilità di avere problemi dentali. Il principale tra questi era la malattia parodontale o gengivale, il che significa che una grande quantità di batteri è presente nella bocca. In questo caso, non è possibile cavarsela con lo spazzolino o il filo interdentale, poiché le gengive possono sanguinare e quindi essere aperte a ricevere batteri nel flusso sanguigno. È stato teorizzato che una delle connessioni tra salute dentale e malattie cardiache è ciò che il flusso sanguigno fa con i batteri dalla bocca. Potrebbe finire per rivestire le pareti delle arterie, causando la terosclerosi e il blocco delle arterie, o in alternativa, alcune forme di batteri dello streptococco possono far crescere la sostanza vegetativa nelle valvole del cuore, chiamata endocardite batterica. La prevenzione delle malattie gengivali è importante, e questo significa usare il filo interdentale regolarmente e fare due pulizie di denti all'anno. Se soffre di disturbi gengivali, dovresti consultare il medico o il dentista per i collutori antibiotici che possono aiutare a rimuovere i batteri dalla bocca prima del filo interdentale. Un'altra connessione tra salute orale e malattie cardiache è la teoria secondo cui la perdita dei denti può effettivamente cambiare la dieta e causare una salute cardiovascolare peggiore. A causa della mancanza di dente o di una protesi inadeguata, le persone non possono seguire una dieta altrettanto ricca di fibre. Alimenti più morbidi possono significare più cibi grassi a una dieta significativamente sbilanciata, che aumenta il rischio di malattie cardiache. È quindi importante ottenere correttamente i denti di ricambio o le corone necessarie in modo da poter consumare quantità raccomandate di fibra alimentare. La salute dentale e le malattie cardiache hanno una connessione ancor più stabilita che è stata a lungo conosciuta. Le persone che hanno avuto interventi chirurgici, in particolare gli interventi chirurgici che hanno utilizzato valvole, condotti o stenti artificiali hanno assolutamente bisogno di un trattamento antibiotico prima di ricevere qualsiasi tipo di trattamento dentale, anche una pulizia dei denti. È sempre importante parlare con il tuo dentista delle condizioni del cuore o degli interventi chirurgici che hai avuto e di chiedere al cardiologo se hai bisogno di quelli che vengono chiamati antibiotici profilattici prima di vedere il dentista. Questa grande dose singola di antibiotici, assunta un'ora prima del lavoro dentale, previene il maggior rischio di sviluppare un'endocardite batterica. Inoltre, il trattamento per alcune forme di malattie cardiache può esacerbare la malattia di gomma. Alcuni farmaci come bloccanti dei canali del calcio o ACE inibitori possono venire in forma masticabile e molti contengono zucchero. Farmaci per malattie cardiache possono creare un effetto valanga che in realtà peggiora le stesse malattie che dovrebbero trattare causando problemi dentali maggiori. Questo problema potrebbe essere risolto prendendo pillole che può ingoiare piuttosto che masticare in modo che i denti non siano influenzati dai farmaci.